Un gruppo che ha contaminato le proprie canzoni con suoni elettronici e melodie rock per trascinarvi in un viaggio emozionale e assolutamente intenso. Loro poi mi parlavano di una cosa molto bella, devo dire, prima, perché appunto mi dicevano che ci tengono molto questa sera a ricordare quello che è stato il loro fondatore, nonché un amico, Davide Tacconi, autore di alcuni dei loro testi, scomparso tragicamente nel luglio del 2002. Quindi direi un grandissimo applauso per voi e un grandissimo applauso per Davide e un saluto a lui. Loro approfittano di questa serata anche per promuovere l'ultima produzione dal titolo unico che verrà presentato ufficialmente poi l'11 dicembre e di cui stasera ascolterete appunto una parte. Quindi un grandissimo applauso, andiamo ad ascoltare il rock dei mercoledì notte! Vai ragazzi! Grazie a Elena per questa meravigliosa introduzione. Questo è il nostro manifesto contro l'egoismo. Narciso Riesci a sorprendermi? Non è colpa mia L'asferto non si può decidere È stato il caso se sono nato o sveggiamo E non è colpa tua Se tu non sai capire che La bellezza è la chiave Del successo E non è colpa mia È chimica casuale C'è la combinazione di me perfetta E non è colpa tua E non è colpa tua Se tu non sai comprendere Perché non è facile essere convinto Mi dispiace, sai Ma sono bello più di te E se temo solo che Ti ho fatto un giorno Con il tuo sguardo Tu mi sorprenderai L'importante non è essere È sembrare Le famose doti nascoste Non servono per me Se non mi vuoi accettare Non mi merite E non mi attenzione Non mi merite Ma sono bello più di te E se temo solo a te E un brutto giorno Con il tuo sguardo Tu mi sorprenderai Riesci a sorprendermi E un brutto giorno Con il tuo sguardo Ti sorprenderai È un brutto giorno Con il tuo sguardo Ti sorprenderai Grazie 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 Grazie